L'erede di Serpeverde Si ritrovò nell'ingresso di una sala molto lunga, debolmente illuminata. Pilastri di pietra torreggianti, formati da altri serpenti avvinghiati, si levavano fino al soffitto, perdendosi nel buio e gettando lunghe ombre nere nella strana oscurità verdastra che avvolgeva il luogo. Col cuore che gli batteva forte, Harry rimase in ascolto nel silenzio gelido. Forse il basilisco era appiattato nell'oscurità dietro un pilastro, e Ginny dov'era? Tirò fuori la bacchetta e cominciò ad avanzare fra le colonne sinuose. L'eco dei suoi passi circospetti rimbalzava sulle pareti nere. Harry teneva gli occhi semi chiusi, pronto a serrarli del tutto alla prima visaglia di movimento. Si pareva che le orbite vuote dei serpenti di pietra lo seguissero. Più di una volta, con una stretta allo stomaco, credette di vedere qualcosa muoversi nell'ombra. Poi, giunto all'ultima coppia di colonne che si stagliavano contro la parete di fondo, si ritrovò davanti una statua alta fino al soffitto. Dovette piegare indietro il collo per riuscire a intravedere il volto gigantesco che lo sovrastava. Era il volto antico e scimmiesco di un vecchio mago, con una lunga barbarada che gli arrivava quasi fino all'orlo dell'ampia veste scolpita e due enormi piedi grigi che poggiavano sul pavimento levigato della stanza. Tra i piedi giaceva a bocconi una figurina vestita di nero, dai capelli rosso fiamma. «Ginni!» bisbigliò Harry precipitandosi verso di lei. «Ginni, dimmi che non sei morta! Ti prego, dimmi che non sei morta!» Poggiò la bacchetta accanto a sé, prese la ragazzina per le spalle e la voltò. Aveva il volto bianco e freddo come l'alabastro, ma gli occhi erano chiusi, il che significava che non era pietrificata. Ma allora voleva dire che era... «Ginni, ti prego, svegliati!» Bisbigliò disperato scuotendola, la testa di Ginni ciondolò inerte. «Non si sveglierà!» disse una voce suadente. Harry sobbalzò e si voltò. Al pilastro più vicino era appoggiato un ragazzo alto dai capelli neri. I contorni della sua figura erano stranamente sfocati, come se Harry lo vedesse attraverso una finestra appannata. Ma come non riconoscerlo? «Tom! Tom Riddle!» Riddle annuì, senza levare gli occhi da Harry. «Che cosa significa che non si sveglierà?» chiese Harry disperato. «Non sarà mica! Non sarà mica!» «È ancora viva!» disse Riddle, ma per poco. Harry lo fissò. Tom Riddle aveva studiato a Hogwarts cinquant'anni prima, eppure eccolo lì, avvolto in un'aura misteriosa e opalescente. Non poteva avere più di sedici anni. «Sei un fantasma?» gli chiese con voce incerta. «Un ricordo!» rispose Riddle abbassando la voce. «Un ricordo conservato in un diario per cinquant'anni». Indicò il pavimento, in direzione dei piedi giganteschi della statua. Lì accanto, aperto, c'era il piccolo diario nero che Harry aveva trovato nel bagno di Mirtilla Malcontenta. Per un attimo, il ragazzo si chiese come avesse fatto ad arrivare fin lì, ma c'erano questioni più urgenti da affrontare. «Devi aiutarmi, Tom», disse sollevando di nuovo il capo di Ginny. «Dobbiamo portarla fuori di qui. C'è un basilisco. Non so dove si trovi, ma potrebbe arrivare da un momento all'altro. Ti prego, aiutami!» Riddle non si mosse. Madido di sudore, Harry cercò di sollevare Ginny da terra. Poi si chinò di nuovo a raccogliere la bacchetta. Ma la bacchetta era sparita. «Hai mica visto?» Alzò lo sguardo. Riddle lo stava ancora fissando e tra le lunghe dita rigirava la sua bacchetta. «Grazie», disse Harry allungando una mano per prenderla. Un sorriso increspò le labbra di Riddle, che non staccava gli occhi da Harry e continuava pigramente a giocherellare con la bacchetta. «Senti», disse Harry tutto affannato, con le ginocchia che cominciavano a cedergli sotto il peso morto di Ginny. «Dobbiamo andarcene di qui. Se arriva il basilisco...» «Non verrà, a meno che non lo si chiami», disse Riddle con calma. Harry depose Ginny a terra, incapace di tenerla in braccio più a lungo. «Cosa intendi dire?», chiese. «Tai, ridammi la bacchetta, potrebbe servirmi». Il sorriso si allargò sul volto di Riddle. «Non ne avrai bisogno», disse. Harry lo fissava. «Che cosa significa che non ne...» «Era tanto che aspettavo questo momento, Harry Potter», disse Riddle, «di avere l'occasione di incontrarti, di parlarti». «Senti», disse Harry perdendo la pazienza, «non credo che tu abbia capito la situazione. Siamo nella camera dei segreti. Parleremo dopo». «No, invece, parliamo adesso», disse Riddle con il suo largo sorriso, infilandosi in tasca la bacchetta di Harry. Harry lo fissava. Stava succedendo qualcosa di strano. «Come ha fatto Ginny a ridursi in questo stato?», chiese lentamente. «Questa sì, è una domanda interessante», disse Riddle in tono amabile. «Ed è anche una storia molto lunga. Suppongo che Ginny si trovi in questo stato fondamentalmente perché ha aperto il suo cuore a un estraneo invisibile, rivelandogli tutti i suoi segreti». «Ma di che cosa stai parlando?», chiese Harry. «Il diario», rispose Riddle. «Il mio diario. Sono mesi che la piccola Ginny ci scrive fiumi di parole, raccontandomi tutte le sue lacrimevoli preoccupazioni e angosce. Che i suoi fratelli la prendono in giro, che è dovuta venire a scuola con abiti e libri di seconda mano, che...» «E qui gli occhi di Riddle mandarono un lampo», «che non pensava di riuscire mai a piacere al famoso, al bravo, al grande Harry Potter». «Durante tutto il discorso, gli occhi di Riddle non avevano mai abbandonato quelli di Harry. Avevano uno sguardo quasi famelico. «È una gran noia dover stare a sentire gli sciocchi, piccoli turbamenti di una ragazzina di undici anni», proseguì. «Ma sono stato paziente». Le ho risposto. «Sono stato comprensivo. Sono stato gentile. E adesso lei mi adora». «Nessuno mi ha mai capito come te, Tom. Sono così felice di avere questo diario a cui confidarmi. È come avere un amico da portare sempre con me in tasca». Rise. Una risata stridula, fredda, che non gli si addiceva affatto e che a Harry fece venire i brividi. Modestia a parte, Harry, ho sempre avuto il dono di affascinare le persone di cui avevo bisogno. Così Ginny mi ha schiuso la sua anima e la sua anima era esattamente quella che io volevo. Mi sono alimentato delle sue paure più profonde, dei suoi segreti più oscuri, che mi hanno reso sempre più forte. Sono diventato potente, molto più potente della piccola Ginny Weasley, abbastanza da cominciare a raccontarle qualcuno dei miei segreti, da cominciare a riversare un po' della mia anima nella sua. «Cosa vuoi dire?» chiese Harry con la bocca secca. «Non hai ancora capito, Harry Potter?» chiese Riddle in un sussurro. «È stata Ginny Weasley ad aprire la camera dei segreti. È stata lei a strangolare i galli e a scrivere messaggi minacciosi sulle pareti. Lei ad aizzare il serpente di serpe verde contro quattro sangue marcio, oltre che contro la gatta di quel mago no. «Non è possibile!» sussurrò Harry in un soffio. «E invece sì!» riprese Riddle con calma. «Naturalmente all'inizio lei non sapeva quel che stava facendo. Era molto divertente. Quanto vorrei che tu avessi potuto leggere quello che scriveva via via sul diario. Col tempo è diventato sempre più interessante. «Caro Tom!» recitò fissando il volto inorridito di Harry. «Credo di star perdendo la memoria. Mi trovo attaccata ai vestiti penne di gallo e non so come ci siano arrivate. Caro Tom, non mi ricordo quel che ho fatto la notte di Halloween, ma un gatto è stato aggredito e io sono tutta sporca di vernice. Caro Tom, Percy continua a ripetermi che sono pallida e che non sembro più io. Penso che sospetti di me. Oggi c'è stata un'altra aggressione e io non so dove mi trovavo. Tom, che cosa devo fare? Forse sto impazzendo. Credo di essere io quella che aggredisce tutti, Tom.» Harry serrò i pugni, tanto che le unghie gli affondarono nella carne. «C'è voluto molto tempo perché la piccola, stupida Ginny smettesse di fidarsi del suo diario», proseguì Riddle. «Ma alla fine ha cominciato ad avere dei sospetti e ha cercato di disfarsene. Ed ecco dove entri in scena tu, Harry. Tu l'hai trovato e io non avrei potuto esserne più felice. Fra tutti quelli che avrebbero potuto impossessarsene quello che più desideravo incontrare eri tu.» «E perché volevi incontrarmi?» chiese Harry. Sentiva montare la rabbia e dovette fare uno sforzo per mantenere ferma la voce. «Vedi, Ginny mi ha raccontato tutto di te, Harry», disse Riddle. «Tutta la tua affascinante storia». Posò gli occhi sulla cicatrice a forma di saetta e la sua espressione divenne ancor più famelica. Sapevo di dover scoprire altre cose sul tuo conto, di doverti parlare e incontrarti, se potevo. Per questo ho deciso di mostrarti l'episodio della mia famosa cattura di quel gran sempliciotto di Hagrid per conquistarmi la tua fiducia. «Ma Hagrid è mio amico», disse Harry e questa volta la voce gli tremò. «E tu l'hai incastrato. Non è così? Io credevo che tu avessi commesso un errore, ma...» Riddle scoppiò ancora una volta in quella sua risata stridula. «Era la mia parola contro quella di Hagrid. Beh, puoi immaginare da te come è rimasto il vecchio Armando Dippet. Da una parte Tom Riddle, povero in canna ma brillante, orfano ma così coraggioso, prefetto della scuola, studente modello. Dall'altra, quel gran pasticcione confusionario di Hagrid, che si metteva nei guai una settimana sì e una no, che tentava di allevare cuccioli di lupi mannari sotto il letto, che sgattaiolava nella foresta proibita per andare a fare a botte con i troll. Ma devo ammettere che persino io sono rimasto sorpreso della riuscita del mio piano. pensavo che qualcuno si sarebbe reso conto che l'erede di Serpeverde non poteva assolutamente essere Hagrid. C'erano voluti a me cinque anni interi per scoprire quel che c'era da sapere sulla camera dei segreti e trovarne l'ingresso. Figuriamoci se Hagrid poteva avere il cervello o il potere per farlo. Soltanto Silente, l'insegnante di trasfigurazione, sembrava persuaso dell'innocenza di Hagrid. Convinse Dippet a tenerlo e a istruirlo come guardacaccia. Sì, credo che Silente avesse indovinato. Silente non mi ha mai apprezzato quanto gli altri insegnanti. Scommetto che Silente ti ha inquadrato subito, disse Harry digrignando i denti. Beh, certo, dopo l'espulsione di Hagrid non mi ha mai perso d'occhio e la cosa era molto seccante, disse Riddle con indifferenza. Sapevo che riaprire la camera mentre ero ancora a scuola non era prudente, ma non avevo certo intenzione di buttare al vento tutti gli anni che avevo passato a cercarla. Decisi allora di lasciare un diario che conservasse tra le sue pagine la memoria di quel che io ero a sedici anni. In questo modo, con un po' di fortuna, sarei riuscito a istruire qualcuno abbastanza per seguire le mie orme e portare a compimento la nobile opera di Salazar Serpeverde. Beh, non è il caso che tu canti vittoria, disse Henry con aria di trionfo. Questa volta non è morto nessuno, neanche la gatta. Fra qualche ora sarà pronta la pozione di Mandragola e tutti quelli che sono stati pietrificati torneranno normali. Forse non ti ho ancora detto, riprese Riddle abbassando la voce, che non mi interessa più ammazzare il sangue marcio. Da molti mesi a questa parte, il mio nuovo bersaglio, sei tu. Henry lo fissò, ammutolito. Immagina la mia rabbia quando ho scoperto che chi aveva riaperto il diario per scrivermi non eri tu, ma Ginny. Lei te l'ha visto in mano ed è stata presa dal panico. Cosa sarebbe successo se tu avessi scoperto come funzionava e se io ti avessi spiattellato tutti i suoi segreti o se, peggio ancora, io ti avessi detto chi era stato a strangolare i galli. Così, quella stupida mocciosa ha aspettato che nel tuo dormitorio non ci fosse nessuno e ha trafugato il diario. Ma io sapevo cosa fare. Ormai mi era chiaro che tu eri sulle tracce dell'erede di Serpeverde. Da tutto quel che Ginny mi aveva detto di te, sapevo che avresti risolto il mistero ad ogni costo, specie poi se essere aggredita fosse stata una delle tue migliori amiche. e Ginny mi aveva detto che a scuola aveva suscitato un grande scalpore il fatto che tu parlassi il serpentese. Perciò ho convinto Ginny a scrivere un addio sul muro, a venire quaggiù e ad aspettare. Lei ha pianto, si è dimenata ed è diventata davvero noiosa. Ma in lei non è rimasta più tanta vita. Ha messo troppo di sé nel diario, dentro di me, abbastanza comunque da permettermi di abbandonare finalmente quelle pagine. Da quando siamo quaggiù non ho fatto che aspettare il tuo arrivo. Sapevo che saresti venuto. Ho molte domande da farti, Harry Potter. Per esempio, sbottò Harry con i pugni ancora serrati. Beh, disse Riddle sorridendo amabilmente, come è potuto accadere che un neonato senza alcun particolare talento magico sia riuscito a sconfiggere il più grande mago di tutti i tempi. Come hai fatto a cavartela solo con una cicatrice mentre i poteri di Lord Voldemort sono andati distrutti? Nei suoi occhi famerici brillava ora un sinistro bagliore rossastro. Perché ti importa tanto di sapere come ho fatto a cavarmela? Chiesa Harry lentamente. Voldemort è venuto dopo. Voldemort disse Riddle il piano. È il mio passato, il mio presente e il mio futuro Harry Potter. Tiro fuori dalla tasca la bacchetta di Harry e cominciò a rotearla in aria tracciando tre parole scintillanti Tom Marvolo Riddle. Poi la agitò di nuovo e le lettere del suo nome si disposero in un ordine diverso. I am Lord Voldemort. Vedi? Io sono Lord Voldemort bisbigliò. Era un nome che già usavo a Hogwarts ma naturalmente soltanto con gli amici più intimi. Credi forse che intendessi usare per sempre lo sporco nome babbano di mio padre? Io che per parte di madre ho nelle vene il sangue di Salazar Serpeverde? Io chiamarmi con il nome di uno stupido babbano qualunque che mi aveva abbandonato ancora prima che nascessi solo perché aveva scoperto che sua moglie era una strega? No Harry mi sono creato un nuovo nome un nome che quando fossi diventato il più grande stregone di tutti i tempi al solo pronunciarlo avrebbe fatto tremare tutti i maghi della terra. A Harry parve che il cervello gli si fosse inceppato fissava con sguardo ottuso Riddle l'orfano che da grande aveva ucciso i suoi genitori e quelli di tanti altri ragazzi ancora. Finalmente si costrinse a parlare. Non è vero disse e la sua voce pacata tradiva l'odio Non è vero cosa chiese Riddle Non sei il più grande stregone di tutti i tempi disse Harry con il respiro affannoso spiacente di deluderti ma il più grande mago al mondo è Albus Silente lo dicono tutti anche quando eri forte non hai mai osato prendere il potere a Hogwarts Silente ti capì al volo quando eri a scuola e ancora oggi ti fa paura ovunque tu continui a nasconderti scomparso il sorriso il volto di Riddle si rabbuiò è bastato il ricordo di me a cacciare Silente da questo castello si bilò non è come pensi tu non ha lasciato veramente Hogwarts ribatte Harry stava parlando a Vanvera col solo desiderio di spaventare Riddle sperava che le sue parole fossero vere ma non osava crederci Riddle fece per aprire bocca ma si fermò da qualche parte risuonò una musica Riddle si guardò intorno scrutando con gli occhi la camera vuota la musica risuonò più forte aveva un che di misterioso di ultraterreno faceva correre i brividi lungo la schiena Harry sentì rizzarsi i capelli in testa e il cuore allargarsi come se fosse raddoppiato di volume poi la musica raggiunse un volume così alto che se la sentì vibrare dentro la cassa toracica fu allora che sulla sommità della colonna più vicina e ruppe una fiamma apparve un uccello vermiglio delle dimensioni di un cigno che riempiva la stanza del suo canto arcano fino alle volte del soffitto aveva una coda d'oro scintillante lunga quanto quella di un pavone e due artigli anche quelli d'oro lucente tra cui stringeva un fagotto cencioso un attimo dopo volò in direzione di Harry lasciò cadere ai suoi piedi l'involto stracciato poi atterrò pesantemente sulla sua spalla ripiegando le grandi ali sollevando lo sguardo Harry vide che aveva un lungo becco aguzzo anch'esso dorato e piccoli occhi neri l'uccello smise di cantare immobile e tiepido sfiorava la guancia di Harry fissando Riddle è una fenice commentò Riddle restituendo all'uccello uno sguardo scaltro Fox sussurrò Harry e sentì gli artigli d'oro dell'uccello premergli gentilmente la spalla e quello proseguì Riddle senza neanche degnare di uno sguardo lo straccio che Fox aveva lasciato cadere quello è il vecchio cappello parlante era proprio così rattoppato logoro e sporco il cappello giaceva immobile ai piedi di Harry Riddle ricominciò a ridere una risata così forte che tutta la stanza buia ne risuonò come se a ridere fossero dieci Riddle questo è l'aiuto che ti manda Silente un uccello canterino e un vecchio cappello ti senti coraggioso Harry Potter ti senti al sicuro adesso Harry non rispose non capiva bene di quale utilità potessero essergli i Fox o il cappello parlante ma non era più solo sentì il coraggio riaffiorare e aspettò che Riddle finisse di ridere al lavoro Harry disse Riddle sfoggiando il solito sorriso due volte nel tuo passato nel mio futuro ci siamo incontrati e per due volte non sono riuscito a ucciderti come diavolo hai fatto a sopravvivere raccontami tutto più a lungo parli aggiunse piano più tardi modirai Harry rifletteva freneticamente valutando le sue possibilità di farcela Riddle aveva la bacchetta lui Harry aveva Fox e il cappello parlante ma nessuno dei due gli sarebbe stato di grande aiuto in un duello la situazione pareva disperata ma ogni minuto concesso a Riddle era un minuto di vita sottratto a Ginny e poi tutt'un tratto Harry notò che i contorni del suo avversario si facevano più nitidi più reali se dovevano combattere meglio prima che poi nessuno sa perché hai perso i tuoi poteri quando mi hai aggredito disse a un tratto non lo so neanch'io ma so perché non sei riuscito a uccidermi perché mia madre è morta per salvarmi mia madre nata dall'ordinaria stirpe dei babbani aggiunse tremando d'ira repressa è stata lei a impedire che tu mi uccidessi e io ho visto chi sei veramente ti ho visto l'anno scorso sei un relitto più morto che vivo ecco dove ti ha portato tutto il tuo potere vivi nascosto sei brutto disgustoso il volto di Riddle si contorse in una smorfia poi il ragazzo si costrinse a sorridere un sorriso orrendo è così tua madre è morta per salvarti sì devo ammettere che si tratta di un potente controincantesimo ora lo capisco in fin dei conti in te non c'è niente di speciale me lo chiedevo sai perché fra noi Harry Potter esistono strane somiglianze perfino tu devi averle notate tutti e due siamo mezzosangue orfani e allevati da babbani probabilmente degli unici lettilofoni che mai abbiano frequentato Hogwarts dai tempi del grande serpeverde anche fisicamente ci assomigliamo un po' ma in fondo a salvarti da me è stato solo un caso un caso fortunato era quello che mi interessava sapere Harry rimase immobile teso aspettando che l'altro sollevasse la bacchetta ma un bieco sorriso tornò a illuminare il volto di Riddle ora Harry voglio darti una piccola lezione misuriamo i poteri di Lord Voldemort erede di Salazar serpeverde e quelli del famoso Harry Potter munito delle migliori armi che Silente è in grado di offrirgli lanciò uno sguardo divertito a Fox e al cappello parlante poi si allontanò Harry con le gambe intorpidite e molli per la paura lo vide fermarsi fra le due immense colonne e guardare in alto verso il volto di pietra di serpeverde che lo sovrastava nella semioscurità Riddle spalancò la bocca e ne uscì un sibilo ma Harry capiva quel che stava dicendo parlami serpeverde tu che sei il più grande dei quattro di Hogwarts Harry si voltò a guardare la statua Fox si dondolava sulla sua spalla il gigantesco volto di pietra di serpeverde si mosse inorridito Harry vide la sua bocca spalancarsi sempre più fino a diventare un immenso buco nero e dentro la bocca qualcosa si mosse qualcosa risaliva strisciando dalle profondità delle sue viscere di pietra Harry indietreggio fino a sbattere contro la parete opposta strinse forte gli occhi e si sentì sfiorare la guancia dall'ala di Fox che si era alzato in volo voleva gridare non lasciarmi ma che possibilità aveva una fenice contro il re dei serpenti qualcosa di pesante cadde con un tonfo sul pavimento di pietra Harry lo sentì tremare sotto i piedi sapeva quel che stava accadendo lo intuiva gli sembrava quasi di vedere il serpente gigantesco srotolarsi dalla bocca di serpeverde poi udì il sibilo di Riddle uccidilo il basilisco il basilisco strisciò verso Harry il ragazzo sentiva il suo corpo massiccio scivolare pesantemente sul pavimento polveroso con gli occhi ancora ben chiusi cominciò a correre di lato alla cieca aiutandosi con le mani per trovare la strada Riddle rideva Harry inciampò cadde di peso sulla pietra e sentì in bocca il sapore del sangue il serpente era a pochi metri lo sentiva avvicinarsi proprio sopra di lui si udì un sibilo lacerante poi Harry fu colpito da qualcosa di molto pesante che lo schiacciò contro la parete aspettò di sentire le zanne del serpente affondargli nella carne ma il sibilo si fece sempre più furibondo e qualcosa si dibatte violentemente fra le colonne fu più forte di lui aprì gli occhi quel tanto che bastava per dare un'occhiata alla scena l'immenso serpente dal lucente corpo verde fiele grosso come il tronco di una quercia si era rizzato e la sua grossa testa massiccia ondeggiava fra le colonne come se fosse ubriaco Harry tremava non appena il mostro si fosse girato era pronto a richiudere gli occhi ma proprio in quel momento vide cos'era stato a distrarlo Fox gli volteggiava sopra la testa e il basilisco cercava furiosamente di addentarlo con le zanne lunghe e sottili come sciabole l'uccello scese in picchiata il suo lungo becco d'oro scomparve e un attimo dopo un torrente di sangue nero schizzò sul pavimento il serpente menava colpi con la coda mancò di poco Harry e prima che il ragazzo facesse in tempo a chiudere gli occhi si voltò Harry lo fissò e vide che Fox gli aveva perforato gli occhi gialli e sporgenti il sangue colava fiotti sul pavimento e il mostro agonizzante sputava no Harry udi ridol gridare lascia perdere l'uccello lascia perdere l'uccello il ragazzo è dietro di te puoi ancora fiutarlo uccidilo il serpente accecato si dimenò confuso ma ancora micidiale Fox gli volteggiava sopra la testa aveva ripreso a cantare la sua arcana melodia colpendo il naso squamoso del mostro che continuava a sanguinare dagli occhi trafitti aiutatemi aiutatemi mormorò Harry disperato qualcuno mi aiuti ancora una volta la coda del serpente sferzò il pavimento Harry la schivò poi fu colpito in faccia da un oggetto morbido il basilisco gli aveva fatto volare tra le braccia il cappello parlante Harry lo afferrò era tutto quel che gli rimaneva l'unica e ultima possibilità se lo cacciò in testa e poi si buttò a terra dove rimase steso mentre la coda del basilisco continuava a infierire su di lui aiutami aiutami pensava Harry tenendo gli occhi chiusi sotto il cappello ti prego aiutami il cappello non rispose ma si contrasse come strizzato da una mano invisibile un oggetto duro e pesante cadde sulla testa di Harry facendolo quasi svenire tramortito afferrò il cappello per la punta per sfilarselo dalla testa ma così facendo sentì sotto le mani qualcosa di lungo e duro dentro al cappello era apparsa una spada d'argento lucente con l'impugnatura tempestata di rubini grossi come un uovo uccidi il ragazzo lascia stare l'uccello il ragazzo è dietro di te annusa fiuta Harry balzò in piedi pronto a combattere la testa del basilisco ciondolava il corpo si afflosciava e si attorcigliava sbattendo contro i pilastri Harry vide le immense cavità sanguinanti di quelli che erano stati i suoi occhi vide la sua bocca spalancarsi tanto da inghiottirlo tutto intero mostrando una fila di denti lunghi come la sua spada sottili lucidi velenosi il basilisco fece un balzo in avanti alla cieca Harry lo schivò mandandolo a sbattere contro la parete quello fece un altro balzo e la sua lingua biforcuta sferzò il fianco del ragazzo Harry sollevò la spada con entrambe le mani il basilisco scattò di nuovo dritto contro di lui Harry prese lo slancio e gli conficcò la spada nel palato fino all'elsa mentre il sangue caldo gli inzuppava le braccia avvertì un dolore lancinante proprio sopra il gomito una lunga zanna velenosa si stava conficcando sempre più a fondo nel suo braccio e si spezzò dentro quando il basilisco si rovesciò sul fianco e ricadde a terra con uno spasimo Harry si affrosciò lungo la parete e cadde afferrò la zanna che gli spargeva il veleno nel corpo e se la strappò dal braccio ma era tardi lo sapeva lento ma inesorabile un dolore incandescente si irradiava dalla ferita mentre lasciava cadere il frammento di zanna e guardava il suo stesso sangue e infradiciargli i vestiti gli si annebbiò la vista la stanza si dissolse in un turbinio di colori opachi davanti agli occhi vide una macchia scarlatta e udì accanto a sé un lieve sbattere di ali Fuchs aveva la lingua impastata sei stato eccezionale Fuchs sentì l'uccello posare la sua splendida testa nel punto in cui era stato ferito dalla zanna del serpente udì un rimbombare di passi e poi un'ombra scura gli si parò davanti sei spacciato Harry Potter disse dall'alto la voce di Riddle spacciato anche l'uccello di silente lo sa vedi cosa fa Potter piange Harry sbatte le palpebre la testa di Fuchs si sfocava e si rimetteva a fuoco davanti ai suoi occhi grosse lacrime perlacee scorrevano sulle penne lucenti dell'uccello ora mi siedo qui e ti guardo morire Harry Potter fai con comodo io non ho fretta Harry si sentiva intorpidito gli pareva che tutto girasse intorno questa è la fine del famoso Harry Potter disse la voce lontana di Riddle solo nella camera dei segreti abbandonato dagli amici sconfitto finalmente dal signore oscuro che così incautamente ha osato sfidare presto rivedrai quella sangue marcio della tua adorata madre Harry ti ha regalato dodici anni di vita ma Lord Voldemort ti ha preso alla fine come ben sapevi che sarebbe successo se questo è morire pensò Harry non è poi così male anche il dolore lo stava abbandonando ma stava morendo davvero? anziché dissolversi la camera sembrava rimettersi a fuoco Harry scosse lievemente il capo e sentì che Fuchs gli teneva ancora la testa appoggiata sul braccio una macchia perlacea formata dalle sue lacrime luccicava intorno alla ferita solo che la ferita non c'era più vattene via uccellaccio si udì a un tratto la voce di Riddle allontanati da lui ti ho detto di andartene Harry sollevò il capo Riddle stava puntando la bacchetta di Harry contro Fuchs ci fu uno scoppio come una fucilata e Fuchs si librò di nuovo in aria in una nuvola d'oro e vermiglio le lacrime della fenice disse Riddle piano fissando il braccio di Harry ma certo poteri taumaturgici avevo dimenticato fissò il volto di Harry ma non fa niente anzi io preferisco così soltanto tu e io Harry Potter tu e io sollevò la bacchetta a quel punto in un turbine d'ali Fuchs tornò a volteggiare sopra le loro teste e Harry si sentì cadere qualcosa in grembo il diario per una frazione di secondo Harry e Riddle con la bacchetta ancora a mezz'aria lo guardarono poi distinto senza riflettere come se non avesse avuto altro in mente da sempre Harry afferrò da terra la zanna del basilisco e la conficcò nel cuore del libro si udì un grido prolungato terribile penetrante l'inchiostro sgorgò dal diario a fiotti sulle mani di Harry inondando il pavimento Riddle si dimenava e si contorceva urlando e dibattendosi e poi era sparito la bacchetta di Harry cadde a terra poi fu il silenzio silenzio salvo il gocciolio continuo dell'inchiostro che trasudava ancora dal diario il veleno del basilisco attraversandolo l'aveva bruciato producendo un buco che ancora sfrigolava tremante Harry si alzò la testa gli girava come se avesse percorso miglia in miglia portato dalla polvere volante lentamente raccolse la bacchetta e il cappello parlante poi con un grosso strattone sfilò la spada dal palato del basilisco in quel momento dall'altra estremità della camera giunse un lamento flebile Ginny si stava muovendo Harry le fu subito accanto e lei si mise seduta i suoi occhi stupefatti andavano dalla grossa sagoma della testa del basilisco morto a Harry e ai suoi abiti tutti insanguinati e poi al diario che il ragazzo teneva in mano sospirò profondamente e rabbrividì poi le lacrime cominciarono a rigarle il viso Harry oh Harry ho cercato di dirtelo a colazione ma non potevo farlo davanti a Percy sono stata io Harry ma ti giuro che non volevo è stato Riddle non ce l'ho fatta a dirgli di no e come hai fatto ad ammazzare quel coso dov'è Riddle? l'ultimo ricordo che ho è di lui che saltava fuori dal diario non ti preoccupare disse Harry sollevando il piccolo volume e mostrando a Ginny il buco prodotto dalla zanna Riddle è andato guarda lui e il basilisco sono andati vieni Ginny usciamo di qui mi cacceranno dalla scuola si inghiozzava Ginny mentre Harry la aiutava a rimettersi in piedi a fatica e pensare che non vedevo l'ora di venire a Hogwarts fin da quando c'era Bill e ora dovrò andarmene che cosa diranno papà e mamma Fox li aspettava volteggiando all'ingresso della camera Harry sospinse Ginny verso l'uscita nell'oscurità che risuonava di Eki scavalcarono le spire inanimate del basilisco morto e poi ripercorsero il tunnel Harry udì la porta di pietra richiudersi alle loro spalle con un lieve sibilo percorrevano ormai da qualche minuto la galleria avvolta nell'oscurità quando Harry sentì in lontananza un rumore di massi spostati lentamente Ron gridò affrettando il passo Ginny sta bene è qui con me gli rispose il grido soffocato dell'amico e dopo l'ultima curva scorsero la sua faccia ansiosa scrutare attraverso il grosso varco che era riuscito ad aprire nel mucchio di massi Ginny Ron allungò un braccio attraverso il varco per aiutarla a passare per prima sei viva non riesco a crederci cosa è successo cercò di abbracciarla ma Ginny lo tenne a distanza sempre singhiozzando ma stai benone Ginny disse Ron raggiante è tutto finito e quell'uccello da dove viene Fox aveva seguito Ginny attraversando il varco è di silente spiegò Harry strizzandosi dentro l'apertura e come mai tu hai una spada chiese Ron sbirciando l'arma lucente che Harry teneva in mano te lo spiegherò quando saremo usciti da qui disse Harry lanciando un'occhiata a Ginny ma più tardi tagliò corto Harry non gli pareva una buona idea dire a Ron chi aveva aperto la camera perlomeno non davanti a Ginny e Lockhart dov'è? là dentro disse Ron con un sorriso indicando col capo la parte superiore della galleria in direzione delle condutture è in condizioni pietose viene a vedere guidati da Fox le cui ali illuminavano di un tenue bagliore dorato l'oscurità rifecero il percorso fino all'imboccatura del tubo lì stava seduto Gilderoy Lockhart canticchiando placidamente fra sé ha perso la memoria spiegò Ron l'incantesimo di memoria ha avuto un effetto boomerang ha colpito lui anziché noi non ha la più pallida idea di chi sia di dove si trovi o di chi siamo noi glielo ho detto io di aspettare qui è un pericolo per se stesso Lockhart li guardò tutti con aria amabile salve disse strano posto non vi pare e voi abitate qui? no rispose Ron guardando Harry e sollevando le sopracciglia Harry si chinò e guardò su per il tubo lungo e buio hai pensato come facciamo a risalire? chiese a Ron Ron scosse la testa ma Fox aveva superato Harry e ora muoveva le ali davanti a lui con gli occhi che brillavano nell'oscurità e agitando le lunghe penne dorate della coda Harry lo guardò incerto sembra volerti dire di afferrarlo disse Ron con aria perplexa ma sei troppo pesante perché un uccello riesca a portarti fin lassù Fox disse Harry non è un uccello qualunque si voltò rapido verso gli altri dobbiamo aggrapparci formando una catena Ginny dai la mano a Ron professor Lockhart lei ehi dice a lei Ron si rivolse aspro a Lockhart lei prenda Ginny per l'altra mano Harry si fissò alla cintura la spada il cappello parlante Ron si mise dietro di lui e lo afferrò per gli abiti mentre Harry si afferrò alle piume della coda di Fox che erano stranamente calde fu come se una straordinaria leggerezza si impadronisse del suo corpo e un attimo dopo con un sibilo ecco che risalivano in volo la tubatura Harry sentì Lockhart sospeso in aria sotto di lui esclamare straordinario straordinario sembra un'autentica magia l'aria frizzante sferzava i capelli di Harry non avevano fatto in tempo a godersi il volo che era già finito tutti e quattro capitombolarono sul pavimento bagnato del gabinetto di Mirtilla malcontenta e mentre Lockhart si raddrizzava il cappello il sifone che nascondeva la tubatura tornò al suo posto Mirtilla strabuzzò gli occhi sei vivo disse a Harry con voce inespressiva non c'è bisogno che ti mostri tanto delusa disse il ragazzo cupo ripulendo gli occhiali dalle macchie di sangue e di fango oh beh stavo giusto pensando se tu fossi morto sarei stata lieta di ospitarti nel mio gabinetto disse Mirtilla inargentandosi per l'imbarazzo blaah fu il commento di Ron mentre uscivano dal gabinetto e si incamminavano lungo il corridoio buio e deserto Harry credo che Mirtilla sia innamorata di te Ginny hai una concorrente ma il volto della ragazzina era ancora rigato da lacrime silenziose che cosa c'è adesso chiese Ron lanciandole un'occhiata trepidante Harry gli fece segno di lasciarla tranquilla Fox apriva la fila e illuminava il corridoio di una luce dorata il piccolo drappello lo seguì e poco dopo si ritrovarono tutti fuori dell'ufficio della professoressa McGonagall Harry bussò e poi apri la porta grazie a tutti grazie a tutti